Cultura non è solo Dante, non è solo Foscolo, cultura non è solo teatro, non è solo Shakespeare, non è solo Pirandello, cultura è anche digitale e in Italia facciamo un po' fatica a unire queste due cose. Quando si parla di cultura, la cultura è sempre quella classica. No, cultura oggi è anche digitale, conoscere quello che c'è dietro, le storie che ci sono dietro, la conoscenza che c'è dietro, è un mondo enorme, la tecnologia in generale è cultura, non c'è solamente quella classica. Una persona accolta non necessariamente deve avere una cultura classica e questo è un vetro duro, una barriera che deve essere rotta, perché solo così passerà nella cultura popolare, si libererà la cultura digitale e verrà apprezzata per quello che è e per quello che può dare, perché altrimenti sembra che la cultura sia solamente il latinorum, intervittorium, digilorum, che ne dite?